Presidente Mataluni, oggi si parla di Jobax. Dopo una grandissima depressione per la provincia di Benevento in particolare, sembra che almeno dai dati di Excelsior Union Camera si possa invertire il trend occupazionale. Le intenzioni delle aziende sembrano essere in inversione di tendenza rispetto al passato. Si punta ad assumere? L'obiettivo dell'imprenditore è quello di assumere, non è quello di licenziare. Però abbiamo la necessità, comunque c'era forte la necessità di mettere mano ad un impianto normativo ormai superato. Noi abbiamo tutta la volontà di mantenere rapporti di lavoro, io stesso ho rapporti di lavoro trentennale, ventennale, decennale. Quando si incrociano due serietà, quella dell'impresa e quella del lavoratore, non c'è motivo, non c'è legge che tenga. Tra l'altro dico che magari quando il lavoratore è davvero bravo, ma ci vuole anche un po' di superminimo nella busta vaga, perché altrimenti forse non basta quello che dice la legge. Così come quando sfortunatamente si incrociano problemi caratteriali, problemi lavorativi, problemi di tanta natura, si devono poter dividere le strade legittimamente difendendo gli interessi del lavoratore, ma anche quelli dell'impresa. Ai tavoli di Confindustria in provincia di Benevento, organizzati da lei, ormai è quasi sempre ospite fisso tra gli ospiti o ai tavoli, la CGL e i sindacati. Si è invertito il trend anche in questo senso? Allora, nella nostra piccola provincia di Benevento abbiamo instaurato con i segretari provinciali dei tre sindacati, soprattutto quel reciproco rispetto che ci ha fatto mettere non uno di fronte all'altro, ma tutti e due, la parte datoriale e la parte sindacale, hanno capito che stando, abbiamo sperimentato con successo, che stando uno a fianco all'altro non facciamo altro che perseguire il medesimo obiettivo con successo. Un'ultima domanda, a breve ci saranno le regionali, senza voler minimamente entrare nel merito, cosa chiede Confindustria ai candidati, a chi dovrà guidare la regione? Noi abbiamo il problema della burocrazia che non ha ancora trovato alcuna soluzione, abbiamo il problema infrastrutturale e abbiamo il problema della gestione delle risorse che non si riescono a spendere. Mi auguro che ci possa essere un'amministrazione ancora di più rispetto a quella attuale, ancora di più, molto si è fatto, ma si deve fare molto meglio ancora nella risoluzione di queste tre tematiche.